Questo fatto che ci siano interpretazioni divergenti dimostra la responsabilità enorme del Parlamento e del Governo che non legiferano. Noi siamo orgogliosi come amministrazione comunale di aver riconosciuto dei diritti a un bambino. Prima che intervenisse il Comune di Napoli Ruben non si poteva muovere da Barcellona. Un bambino nato, trascritto regolarmente a Barcellona, Spagna, Unione Europea. Già questa è la prima riflessione da fare. Legislazioni diverse in paesi entrambi dell'Unione Europea. Grazie al nostro atto Ruben è potuto venire in Italia, ha potuto avere un passaporto, ha potuto avere assistenza sanitaria, altrimenti era un bambino abbandonato. Io questo è il tema che mi sono posto. Possiamo non riconoscere diritti a un bambino che è nato? Poi c'è la riflessione sulla famiglia, sulle mamme, sulle coppie, altro tema. E oggi se vogliamo la stessa decisione del prefetto, su indicazione evidente del Ministro dell'Interno, quindi la decisione istituzionale e politica del Ministro dell'Interno non è certo del prefetto, riconosce comunque che alla fine il nostro atto non era così infondato, tant'è vero che il prefetto parla di annullamento parziale, non ritira il passaporto. Se non ci fosse stato il Comune di Napoli, Ruben non avrebbe avuto diritti, non avrebbe avuto il passaporto, il Paese non avrebbe aperto un dibattito. Poi noi abbiamo fatto, interpretando la Costituzione, interpretando gli orientamenti più evoluti della giurisprudenza europea, le legislazioni più avanzate e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta, quindi per questo dopo l'atto del prefetto noi adiremo l'autorità giudiziale. La tristezza è che l'esistenza di un bambino, i diritti di un bambino debbano passare dai tribunali, questo perché? Perché c'è un Parlamento da anni che non ha il coraggio di fare una legge, perché noi dobbiamo prendere atto che ci sono persone dello stesso sesso che si sposano, c'è la richiesta di adozioni, sono atti d'amore, ognuno come la voglia pensare, sono atti d'amore. Se un bambino nasce con un atto d'amore, un paese civile, si deve fare carico dei diritti di quel bambino senza ipocrisia, senza bigottismo e senza interpretazioni legalistiche formali o perché uno si vuole fare un po' di campagna politica su queste cose, perché poi così anche mi sembra alcune decisioni e non mi riferisco ovviamente al prefetto di Napoli, ci mancherebbe altre.